È un peccato perché eravamo partiti con grande entusiasmo, secondo me siamo partiti anche bene, poi ci siamo spaventati un po' forse sul palo di Bertolacci, lì abbiamo forse diminuito un po' la nostra intensità forse per la paura di prendere i gol e quando magari succede questo il gol arriva. Infatti abbiamo preso il gol, abbiamo cercato di ripartire, è arrivata la fine del primo tempo e poi il secondo tempo penso che abbiamo ingranato nel modo giusto, siamo partiti subito forte e poi è arrivato il pareggio, un po' troppo tardi ma è arrivato. Il prossimo turno sarete di scena a Torino contro la Juventus, con che spirito andrete lì visto che come dicevi tu la salvezza è stata raggiunta e quindi potrete giocare con la mente libera insomma? No, appunto perché abbiamo la mente libera possiamo giocare con grande tranquillità e cercare di fare risultato anche a Torino. Sicuramente non andiamo già a Torino sconfitti, quindi cercheremo di giocare la nostra partita per fare risultato. Poi se la Juve sarà più forte vinceranno loro, ma gli daremo filo da torcere. Grazie.